Finalmente un altro pezzo che verrà aperto con l'innesto sulla A27. Venerdì 8 luglio a mezzogiorno per la superstrada Pedemontana il nuovo fondamentale tassello, l'inaugurazione del casello Dispresiano e del tratto che lo collega Montebelluna. A quel punto non rimarrà che completare gli interventi nel tratto Vicentino. Speriamo che venga finita tutta e collegata alle tre autostrade in modo da poter avere i flussi di traffico stabili e poter fare le valutazioni che servono anche in merito al pedaggio. Così la vicepresidente della regione e assessora all'infrastruttura Elisa De Berti, l'apertura Dispresiano sarà salutata da una cerimonia ufficiale ma per completare l'intervento in tempo si starebbero trascurando altri cantieri. L'accusa arriva dal sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin che si è visto interrompere i lavori di costruzione di una rotatoria e di una pista ciclabile. Siccome si deve finire quell'opera, quel punto là, gli operai e i lavoratori sono stati spostati in fondo quindi a Spresiano e tolti dalle opere che devono realizzare a San Zenone e quindi San Zenone ne deve rimettere perché dobbiamo fare un'inaugurazione, dobbiamo fare un taglio del nastro. Eh no, non ci stiamo. Noi abbiamo diritto che i nostri lavori siano completati e siano completati nei tempi stabiliti. Comune di San Zenone che attende ancora la risposta alla diffida inviata in regione sulla mancata esecuzione delle opere complementari alla pedemontana prevista nel proprio territorio. L'area che tira è quella di si arrangeranno gli avvocati quindi diciamo che sono contento che si arrangino gli avvocati perché almeno loro i documenti li leggono e sapranno rispondere certamente nella maniera giusta. Gli accordi scritti parlano chiaro, ribadisce il sindaco, ma De Berti non ci sta a farsi trascinare nella polemica. Noi abbiamo i flussi di traffico sia a pedemontana chiusa e continueremo a monitorare la situazione anche a pedemontana aperta. Ci sono delle situazioni che migliorano, ci sono delle situazioni che rimangono stabili e ci sono delle situazioni che peggiorano. Diciamo che nel momento in cui avremo la conferma dei flussi di traffico potremo sempre in maniera coscienziosa e dettato dal buonsenso e non da chi tira la giacchetta fare scelte opportune di potenziamento della viabilità. Ma dove servirà? Grazie.